Che vuoi? Uomini e donne, Andrea Del Corso sputtanato dalla sua ex, ha una squallida e Uomini e donne, Andrea Del Corso è stato criticato dalla sua ex fidanzata sui social. Venerdì scorso è andata in onda, in prima serata su Canale 5, l'epilogo del suo tormentato percorso nel dating show di Maria De Filippi. Il sogno della cantate napoletana di uscire dal programma con Il Principe Azzurro si è frantumato in pochi secondi con un secco no da parte del corteggiatore scelto, Andrea Del Corso. Dopo lo speciale di Uomini e donne, l'ex fidanzata di Andrea Del Corso ha espresso la sua opinione in merito all'atteggiamento del ragazzo durante il percorso nel programma. . Ecco cosa ha detto. . Andrea Del Corso nella bufera dopo lo speciale di Uomini e donne. Il percorso di Teresa L'angella non è stato sempre rose e fiori. La ragazza, nelle sua ultima puntata, è apparsa alquanto confusa sulla scelta tra Andrea Del Corso e Antonio Morricone. . La cantante napoletana ha preferito seguire il suo cuore e ha scelto Andrea che le ha refilato un secco no. . I segnali di un rifiuto erano piuttosto evidenti, il ragazzo non si è nemmeno presentato alla cena organizzata dalla tronista. . Dopo lo speciale di Uomini e donne, Martina Sebastiani, l'ex fidanzata del modello sembra abbia lanciato una frecciatine nei suoi confronti sui social e senza filtri ha scritto. . . Ci sono individui composti unicamente da una facciata e hanno l'ingresso degno di un gran palazzo, ma le stanze come squallide capanne… . Sembrerebbe una chiara frecciatina nei confronti del corteggiatore. . Andrea Del Corso I motivi dietro al suo no a Teresa Langella. . Il corteggiatore Veneto, dopo aver infranto il sogno d'amore della tronista, ha deciso di confrontarsi con il padre della ragazza Alessandro spiegando quali sono stati i reali motivi che l'hanno spinto a dire no a sua figlia. . Penso che le sue aspettative siano in contrasto con le mie e in me prevale la ragione. . Sui social molti fan della trasmissione si sono scagliati contro il corteggiatore per il suo atteggiamento che non ha fatto altro che illudere la tronista. .